In questo video vi voglio rompere un po' le scatole, voglio dire, sembra quasi tutto quanto troppo bello per essere vero, abbiamo un mercato azionario che continua a crescere, non ci ricordiamo più come sia un pullback, un ritracciamento, la volatilità è bassissima, l'S&P 500 sono anni, salvo alcune pause, comunque ci restituisce dei ritorni ben al di sopra della media, eccetera eccetera. Ma allora, io non voglio fare l'uccello del malagurio o non voglio fare l'allarmista e non voglio neppure associarmi a coloro che stanno sempre lì a prevedere una recessione, prima o poi avranno ragione e grideranno, avete visto, lo avevo detto, ma si saranno dimenticati e si dimenticheranno in quel momento di ricordare anche che avevano sbagliato mille volte. Sono conscio che quando l'S&P 500 registra nuovi massimi, solitamente a livello statistico, seguono dei periodi positivi, il 30% del tempo questo indice registra nuovi massimi, quindi insomma stiamo parlando in linea generale del mercato azionario, ma stiamo attenzionando quello che è il nostro benchmark di riferimento, ovvero l'S&P 500. Ora io vi andrò a mostrare una serie di grafici e di dati statistici, vi ricorderò anche qualcosa che ho detto nei video precedenti e voglio semplicemente creare degli spunti di riflessione. Andiamo a vedere il VIX, ci troviamo a dei livelli bassissimi, sono 5 anni, quindi dallo scoppio ovviamente pandemico che il VIX sta scendendo dopo quel picco nel 2020, diciamo sono 4 anni, va bene? Siamo ritornati ai livelli prepandemici, quelli del 2019, livelli bassissimi, 12.26 significa che non ci sono giornate in rosso su questo indice significativo da tempo in memore, ragazzi. Se noi ci spostiamo poi, conferma di quello che vi sto dicendo, guardate questo grafico, ovviamente sono il numero di giorni in cui l'S&P 500 non registra un single day, cioè un singolo giorno con un pullback pari o superiori al 2%. E cosa si evince da questo grafico? Che stiamo raggiungendo dei livelli straordinari, siamo ormai quasi vicini al secondo periodo storico, Vedete qui dal grafico, basta vedere in basso a destra, nel 2017 abbiamo vissuto qualcosa di simile, ma ormai stiamo pareggiando quei livelli, qui dobbiamo ritornare praticamente all'epoca dal 2003 al 2007, Ma venivamo comunque da un mercato molto molto depresso, quindi vi era stato tutto il recupero in quegli anni, dal 2003 fino alla crisi finanziaria, tutto il recupero del terreno perso a seguito della bolla.com e della crisi dei primi anni 2000. Ora io mi sposterei anche sulle valutazioni, tutti quanti i vari modelli che ci sono, attenzione io non mi sto allarmando perché l'S&P 500 lo ripeto, registra nuovi massimi, Anzi mi aspetto questo dal mercato azionale americano o dal mercato azionale globale, altrimenti non ci investerei, non sto parlando di quotazioni, sto parlando di modelli di valutazione. Se noi prendiamo l'indicatore di Buffett, qui stiamo veramente carezzando l'estrema valutazione, il price earnings model uguale, se andiamo sull'interest rate model, beh comunque la valutazione è molto alta per l'S&P 500, Ma se ci spostiamo sullo Schiller PR Ration abbiamo un livello di 36, a livello storico, cioè dalla fine dell'800, anzi qui addirittura dal 1870, quindi io sono il primo a dire che non ha senso guardare i dati di 150 anni fa, però per farvi rendere conto delle proporzioni, noi praticamente soltanto nel 29 avevamo visto dei livelli così alti che in realtà erano più bassi di quelli attuali. Poi quando è che li abbiamo visti? Nel 2000, e sappiamo quello che è accaduto, come sappiamo quello che accadde nel 1929, e poi solo un'altra volta qui alla fine del 2021, vi ricordate quanto è stato brutto il 2022? Ecco più o meno stiamo arrivando di nuovo a quei livelli, e abbiamo questo rapporto che segna 36. Adesso, navigando in rete, ve lo volevo mostrare, l'ho salvato qui, ho trovato questa ricerca, Rights Research, ci hanno messo a disposizione questo studio. Quindi, guardate, quando il livello Schiller PE, vedete qui l'asse, quello orizzontale, quello che sta in basso ragazzi, quando raggiunge il livello di 35, se noi andiamo a cercare, intorno al grafico, qual è il ritorno atteso dell'S&P 500, quindi qui la linea arancione, i pontini arancioni ragazzi, cosa capiamo a livello storico? Che è successo dal 1924 al 2024? Qual è l'aspettativa del ritorno medio dell'S&P 500 nei prossimi dieci anni, quando ci troviamo alle attuali valutazioni, prendendo in considerazione lo Schiller PE, ma tutti gli altri modelli indicano la medesima sopravvalutazione, qualcosa di simile, beh, il ritorno atteso o meglio è zero, quindi si prospetta un decennio perduto. Andiamo ancora avanti, è sempre uno studio derivante dalla Rights Research, ragazzi, qui adesso non vi racconto come è stato creato tutta un'altra serie di metriche, eccetera, però morale della favola è questa qui, loro si aspettano che scatti a breve prossimamente un qualcosa che assomiglia a un decennio perduto, lo abbiamo visto qui nel 29 fino all'inizio degli anni 50, 25 anni per recuperare, va bene ma il 29 fu una catastrofe incredibile, quindi andiamo verso situazioni un po' più normali e vicine ai giorni nostri, quindi negli anni 70, vedete qui 14 anni fu quel decennio perduto e 10-11 anni quello più famoso storico, diciamo dal 2000 al 2010, che ci ricordiamo tutti quanti noi, derivanti dalla crisi finanziaria, poi era già scattato per colpa di un qualcosa che vi ho già menzionato, ovvero la bolla.com. Quindi qui ci si interroga e adesso cosa abbiamo di fronte a noi? Vediamo anche i periodi che si riducono, così come stavo leggendo che anche il numero delle recessioni negli Stati Uniti d'America è sempre più basso, quindi passa sempre più tempo fra una recessione e l'altra, sono meno intense, si recupera prima, quindi probabilmente le nuove strutture dell'economia e soprattutto i vari artifici che esistono a livello finanziario permettono anche prima i recuperi, chi lo sa, però intanto questo è il quadro che si è configurato, che si sta configurando, per carità c'è un punto interrogativo qui, ma intanto questa è l'immagine. Se noi andiamo avanti poi, incontriamo altri indicatori, per esempio a me piacciono, il Contrarian, ve l'ho mostrato più volte da quando ho aperto il canale, ormai dal 2019, quindi praticamente qui ve l'ho sempre raccontato, ogni volta ho insistito e tutte le volte ho avuto ragione e funziona molto bene, ovvero quando noi ci troviamo sopra la linea questa qui verde, quindi al di sopra della stessa, la tocchiamo e andiamo al di sopra, stiamo in oversold, stiamo con un mercato, un sentiment, stiamo in presente in panico totale e ci troviamo in iper venduto. Ecco, quando raggiungiamo i livelli così estremi, solitamente il mercato è abbastanza vicino al suo bottom e poi si recupera. Ve lo dicevo qui nel 2022, ve lo dicevo qui nel 2020 ed effettivamente fu così. Alla stessa maniera, guardate, l'iper comprato è anche una situazione di euforia, vedete qui alla fine del 2021 abbiamo visto quello che è successo durante il 2022, siamo ritornati a quei livelli di euforia, ancora, ora vi mostro il peso della tecnologia all'interno dell'S&P 500, non mi preoccupa come poteva essere inquietante nel 2000, sono il primo, quindi vi prego nemmeno a scrivetelo nei commenti ragazzi, perché tanto tutte le volte trovo questo commento, ma sono d'accordo con voi, la tecnologia di oggi è diversa, o meglio, le aziende tecnologiche di oggi, sono assai più mature rispetto a quelle del 2000, è chiaro, lo so benissimo, lo so come voi, basti guardare quanta tecnologia viviamo oggi, quanto è impattante nelle nostre vite, eccetera, eccetera, però ha raggiunto comunque un livello estremo, quasi pari a quello del 2000, all'interno dell'S&P 500, quindi è ben al di sopra di qualunque media, potrebbe anche meritarselo, ma capite, sono degli estremi, e si sta allineando questa configurazione con tutte le altre, quindi non è un qualcosa di strano, con tutto il resto che va a disegnare un modello di un indice molto molto caro, che poi si è scatenata, che poi ha generato comunque una crisi a livello dei mercati finanziari, perché non sono delle crescite sostenibili, molti analisti dicono, va bene, ma allora, se ci deve essere uno storno su un settore, quale sarà? Reggerà ancora il tecnologico o sarà giustamente a un certo punto sul tecnologico, per farlo tornare verso delle valutazioni medie, quantomeno più umane? Bene, voglio mostrarvi poi un altro fatto, io so benissimo, come voi, che l'S&P 500, a livello storico, quando prendiamo comunque delle finestre temporali importanti, ci ha restituito mediamente un 10%, e qui nell'ultimo decennio stiamo viaggiando a un 12,76%, quest'anno a quanto siamo? Già, da inizio anno, a un 16,67%, negli ultimi 5 anni abbiamo viaggiato a un 15%, capite che non è sostenibile questo andamento? Quindi sembrerebbe proprio che si sia portato troppo avanti l'indice, che abbia raggiunto la valutazione media, giusta, normale, che ci potrebbe essere da qui a 10 anni, e quello è il timore di molti analisti, i quali in questo momento non stanno qui a fare gli allarmisti, stanno semplicemente facendo quello che sto facendo io, ovvero una raccolta di dati che ci indicano oggettivamente un indice molto caro, una grande sopravvalutazione e una insostenibilità di una continuazione rispetto agli anni che abbiamo assistito negli ultimi tempi. Voglio dire, stiamo sopra di qualunque media. Ora, io non so se il cambiamento di paradigma è nato, perché allora a quel punto, se noi vogliamo asserire che tutto quanto questo sia normale, dobbiamo anche spiegarci, magari troviamo le ragioni, perché allora il mercato azionario è diventato qualcosa di differente, perché debba differire a tempo indeterminato rispetto a tutto quanto quello che è stato in passato, perché le medie sono tutte quante saltate, ragazzi. Quindi significa che è giusto che un indice S&P 500 viaggi magari normalmente a un 25 TPE, invece di magari a un 15? È la nuova normalità? Io questo non lo so, tutti lo dicono perché è vero, il passato non è garanzia del futuro, ma non posso ignorare qual è la storia e come funzionano le valutazioni in ambito economico, in ambito finanziario, anche perché sempre nel passato, in realtà, l'attuale scenario si era già configurato, e ve l'ho mostrato con gli indicatori precedenti. Era già successo che alcuni settori o alcuni multipli avessero raggiunto determinati i valori, il sentimento e le convinzioni delle persone era che ormai il mondo è diverso e va tutto quanto alla grande, e poi invece era soltanto l'acquiatria prima della tempesta. Oppure stiamo ancora vivendo un boom economico incredibile? È in atto a un'espansione economica assurda e quindi sappiamo che gli utili delle aziende, magari a fronte di un'economia super spumeggiante, aumenteranno così tanto nei prossimi anni che giustamente l'indice si sta portando avanti e già sta scontando questi guadagni nelle sue quotazioni? Perché questa è la natura del mercato azionario? Beh, effettivamente, se io mi prendo qui degli indicatori come questo, che altro non è che la differenza tra i dati macro che sono usciti e quelli che erano le aspettative degli analisti è tutta quanto una delusione. Negli ultimi anni tutti quanti i dati sono al di sotto di quelli che erano le aspettative in ambito macro, ok? Se lo andiamo ad accorpare, se lo andiamo ad aggregare. Abbiamo visto il GDP comunque che sta scendendo, abbiamo visto la disoccupazione che sta un po' aumentando. Vi ho parlato nei giorni scorsi di, ad esempio, posti di lavoro full time che diminuiscono in America, aumentano quelli part time ma così va a diminuire il reddito. Abbiamo visto sempre a livello lavorativo come la percentuale dei lavoratori nel settore privato si stia riducendo rispetto a quello pubblico in una maniera tale che in passato ha sempre poi visto di seguito, cioè ha fatto sempre di seguito una recessione e tanti, tanti, tanti altri dati. Ora non andrò a menzionare perché i dati macroeconomici sono infiniti se volete potete aggiungerli voi, insomma. Ma se facciamo anche altre ricerche, se ci informiamo, vedete qui, ad esempio, questo è l'equivalente, magari se siete abituati a vedere il PMI, no? Sul presente il manifattoriario. Questo invece è quello dei servizi, come grafico, come andamento. E sta scendendo. Quindi che è tutta quanto una serie di indebolimento economico che, attenzione, non si deve per forza trasformare in una recessione, in una depressione, in un disastro. Quello che vi voglio dire io, non stiamo in un'accelerazione economica, stiamo in un rallentamento. Ma allora, è giustificato quello che noi stiamo vedendo, ovvero un mercato che cresce da anni al di sopra delle medie, in questo momento non storna più, e ha raggiunto quasi tutti quanti i massimi nei modelli teorizzati dall'essere umano per inquadrare le valutazioni di questo indice? Eh, io la domanda me la pongo, perché sì, voglio guadagnare, ma mi preoccupo anche di eventuali, no? Storni, crolli, cose di questo genere. E quindi voglio attenzione a questo discorso per prepararmi anche a livello psicologico, magari per scegliere di essere un po' più prudente. Non sto dicendo di scappare via, non sto dicendo di fare market timing, non sto dicendo di uscire dal mercato, anzi, io ho tutti quanti i miei piani, continuo a seguirli, continuo ad accumulare, sapete però come negli ultimi tempi abbia costruito un asset allocation un po' più prudente rispetto al recente passato. Quindi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti rispetto a tutto quanto quello che vi ho mostrato, ripeto sempre in una doppia massima consapevolezza. Uno, cioè la prima, è quella che io, come nessun altro, può prevedere il futuro. Cioè io non posso prevedere il futuro, quindi chissà quello che accadrà e magari continueremo a salire così in eterno. Ma dall'altra, io non posso ignorare quello che è il passato, non posso ignorare i modelli di valutazione, non posso ignorare che già sono accaduti, sono i successi, sono accaduti, sono verificati questi scenari, e dopo di che abbiamo vissuto uno, due, tre, quattro, cinque anni magari pessimi o magari un decennio perduto. Non posso far finta che non esista questo grafico qui, perché non dovrebbe riaccadere di nuovo. Bene ragazzi, sono giunto veramente qui alla conclusione, fatemi sapere la vostra nei commenti, vi do appuntamento a prestissimo e nel frattempo vi auguro il meglio, vi auguro il massimo, sì. Il meglio e il massimo nella vita e negli investimenti. Ciao ragazzi.